In materia di polveri sottili poi la satira si sa che ci vede lungo e il decano dei vignettisti, Fanesi, Giorgio Panaroni, già nel 2002 ci scherzava su confermando così però la necessità di un approccio più strutturale al problema. Domenica scorsa abbiamo avuto la riprova che le PM10 non sono diminuite. È servita di evidenziare che in giunta non vanno d'accordo perché l'assessore Mascarini non la voleva riproporre mentre il sindaco ha deciso di riproporla comunque ed è evidenziato anche che non hanno un'ottica lungimirante su questo problema perché il problema non può essere affrontato oggi per domani, ci deve essere una visione lunga. Noi come Movimento 5 Stelle Fano abbiamo proposto due emozioni, la prima sui cambiamenti climatici dove chiediamo che venga applicato il PAESC che è stato votato nella scorsa legislatura, il piano d'azione per l'energia sostenibile e non viene attuato che prevede riforestazione urbana, passaggio all'elettrico spinto, parcheggi scambiatori, portare gente in centro a piedi con navette gratuite. In un'altra mozione molto importante dove chiediamo invece come risolvere il problema di attraversamento del traffico della città, prevedere finalmente una vera circonvallazione che parta da Torrette, costeggi l'autostrada, si occupi un pochino delle opere compensative che sono state un'occasione persa dal Comune di Fano per arrivare fino a Pesaro, l'ultimo pezzettino da fare insieme a Pesaro che sarà sicuramente d'accordo. Le polveri sottili si combattono abbattendo i gas dell'autodiscarico ma anche e soprattutto eliminando i combustibili fossili, quindi bisogna assolutamente trovare dei modi per convenzioni con le banche, con gli istituti per promuovere un passaggio dalle caldaie a gasolio a quelle a pompe di calore. Insomma ci vuole un piano a lunga visione, non si può risolvere facendo delle domeniche ecologiche che non servono a niente, se non è di evidenziare l'incompetenza di questa giunta su questo argomento.